Lei è Marinella Meligeni dell'azienda Spes. Che bello ritrovarti. È un piacere. Allora, Marinella è stata, diciamo che ci ha commossi, sono ormai due anni, che grazie a lei sia il nostro studio che il reparto di oncologia dell'ospedale di Cosenza viene invaso praticamente dalle sue dolcissime clementine. Allora, Marinella, con te però non abbiamo mai parlato della tua azienda, abbiamo parlato del tuo gran cuore, ma della tua azienda non ne abbiamo mai parlato e questa è l'occasione. Allora, tu che cosa produci? Perché io vedo anche qui delle marmellate. Che cosa significa per te il biologico? Allora, innanzitutto il biologico è mangiare un prodotto genuino. È molto difficile perché ci si scontra, insomma, un po' con le varie mentalità di utilizzare prodotti chimici. Noi cerchiamo, io con la mia azienda, cerco di essere sempre attenta. Anche, ovviamente, vengono utilizzati i fitofarmaci, ma quelli consentiti in agricoltura biologica. E quindi noi miriamo ad avere un prodotto comunque genuino. Le nostre clementine, io lavoro prevalentemente il fresco, però da un po' di tempo mi sono, insomma, cimentata nel trasformato. Quindi la marmellata di clementine con oltre il 70% di frutta, solo con fruttosio, quindi sempre certificata bio. E poi da un po' di tempo anche l'olio, la coltivare, la dolce di Rossano. E niente, quindi cerco di portare i nostri prodotti. I prodotti di eccellenza di questo territorio, che però questo territorio veramente ne è pieno. Perché quest'idea dell'olio? È perché comunque avere un prodotto d'eccellenza, la Calabria si sa, insomma, il Meridione in particolare la Calabria, Noi siamo vocati appunto per l'agricoltura e quindi l'olio d'oliva è un biglietto da visita. Io ci tenevo a precisare che comunque le lavorazioni, come hai detto tu, dei terreni, cioè dal taglio dell'erba senza l'utilizzo di serbanti chimici, ma viene fatto tutto a mano. E' chiaro che è un lavoro oneroso anche, però ci teniamo proprio anche a far vedere la filiera, proprio per far capire al consumatore finale come lavoriamo. Io lavoro prevalentemente online, ho un sito internet, ho un portafoglio clienti che apprezza i nostri prodotti in tutta Italia e anche all'estero. e niente, insomma... Senti, tu sei donna, quanto è difficile fare impresa in Calabria? Tanto. Quali sono le difficoltà che hai incontrato? A primo impatto perché la donna generalmente è vista come... cioè la donna che si occupa di casa, di quanto... Ancora ci sono questi retaggi antichi. Purtroppo sì, sono anni che mi scontro e lo senti a pelle quando una persona... E poca fiducia rispetto alla donna o è altro? Io credo che sia una mentalità tavica che dobbiamo smollare. Ecco perché comunque si continua a lavorare. Voglio arrivare un po' ovunque, nel senso anche portare un messaggio che alla fine le donne sono capaci abbastanza anche di lavorare. Ma tu sei bella tosta, dai, darei una lezione a questa mentalità antica che dobbiamo veramente sradicare.